Zona in festa da partigiani Molti avevano giurato di fartela Noi te la facciamo davvero La festa! Grazie partigiano Carlo Festeggiamo il presidente nazionale dell'AMPI Carlo Smuraglia Martedì 20 dicembre, ore 21 Presso l'AMPI Barona Via Modica 8, Milano La festa è aperta a tutti Non dimenticate il regalino per Carlo Facebook, grazie partigiano Carlo Una mattina! Mi sto svegliato! Bella Ciao! Bella Ciao! Bella Ciao!